La centrale idroelettrica di Signaie si trova a monte della città di Aosta e utilizza le acque del bacino imbrifero della valle del Gran San Bernardo e della Val Pelin attraverso lo scarico dell'omonimo impianto per una superficie complessiva di oltre 400 chilometri quadrati. Sulla collina di Aosta in località Antreben un piccolo bacino raccorda il canale con la condotta forzata. Quest'ultima che alimenta l'impianto con una portata massima di 16 metri cubi al secondo si snoda in galleria attraverso un dislivello di 347 metri che raggiunge la sala macchine posta nel sottosuolo a ben 120 metri di profondità. Nella caverna della sala macchine sono installati tre gruppi generatori con due turbine ciascuno della potenza totale di 42 megawatt e le apparecchiature di controllo. In località Signaie l'imponente fabbricato dalle linee essenziali ospita la gru di servizio del pozzo di accesso e le apparecchiature elettriche necessarie per il collegamento dei generatori con la rete 132 kV. La centrale di Signaie è un impianto di tipo fluente ossia non dispone di un suo accumulo di acqua da utilizzare in tempi diversi rispetto a quelli del ciclo naturale ma per la sua collocazione può avvalersi dell'esercizio a serbatoio della centrale di Valpelin situata più a monte. Nel complesso la sua produzione media annua raggiunge i 220 gigawattora e per il motivo suddetto è importante anche nel periodo invernale.